Dobbiamo arrivare anche alle tende perché adesso qua vi faccio vedere, vedete tutti questi puntini neri? Sono sempre loro per cui dobbiamo arrivare a staccarla, adesso provo ad arrivarci sempre che non mi ammazzo Ok, stacchiamo la tenda e la tiriamo giù e vediamo che cosa succede qua dentro Oh mio Dio, succede già qualcosa di brutto a vederla Ok Ecco cosa succede sulle tende vicino a letti Queste cose qua sono le cose più pericolose dopo Perché noi possiamo ammazzare tutte le cinici che vogliamo Ma quelle ovetine bianche che si vengono in mezzo sono pronte a sfiodersi E se non si elimina tutto si riporta da capo Per cui per le tende in questo caso bisognerà fare un lavoro molto più particolare Guardate questa come è conciata Sicuramente questa andrebbe buttata dal mio punto di vista Però siccome dobbiamo salvarla perché siamo in un centro accoglienza e non abbiamo alternative E la salveremo E la salveremo